A continuare a credere in questo progetto, lui non sa niente, Leonardo viene un attimo, una targa che noi, ma soprattutto voi, facciamo a Rocco per la sua capabilità, targa ricordo di questi 25 anni della mancosa, Rocco è per te. Che non mi aspettavo mai, vorrei una voce, ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il corpo delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che, tu non avermi perso mai. A cercarsi, cercarsi, il cuore da un piole, verarsi, sperarsi, comunque vada per me, ai figli di te. D emotionally, l'indyritioni, manacce, a tutti tutti i nostri amici, bisogna dire? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.